Le partite del Cagliari come il cinema e il panettone di Natale, cioè sai ormai come va a finire il film, è sempre lo stesso, la trama non cambia, i protagonisti non cambiano e sai anche che alla fine si vince, si vince nel tempo di recupero. Sembra disegnato così, è un destino particolare quello del Cagliari, è un destino particolare quello di Leonardo Pavoletti che ancora una volta diventa l'eroe della partita, di una partita strana, di una partita che non è stata giocata bene, di una partita dove si è andato sotto al primo tentativo del Sassuolo che sembrava essere per almeno 10 minuti una squadra imprendibile con il centrocampo del Cagliari incapace di prendere possesso del suo campo. E invece col passare i minuti è successo che la partita è diventata più equilibrata, è diventata un po' più combattuta, forse più combattuta che equilibrata, perché le due squadre si sono date battaglia e in questa battaglia l'errore che ha fatto il Sassuolo è soprattutto quello di caricare i propri difensori di Cartelini gialli, un errore che ha portato avanti fino al secondo tempo, quando Ranieri a un certo punto si è reso conto che la sua squadra non stava più pungendo e che doveva tentare qualcosa. Probabilmente è passato da Monserrato in questi giorni, si dice saccollare Vauesu, cioè quella cosa che fai in modo esagerato, è stato esagerato anche Ranieri nel mettere dentro attaccanti, ma aveva un obiettivo, quello di far pesare particolarmente l'errore di Dionisi, quello di non aver sostituito neanche uno dei due centrali, Erlic e Tresoldi, tutti e due caricati di cartelino giallo. Con l'ingresso quindi di altri due attaccanti, in questo caso con Pavoletti e Luvumbo, è capitato quello che Ranieri aveva preventivato, e cioè che la squadra del Sassuolo è andata in difficoltà sul piano difensivo. E proprio Tresoldi è quello che ha dato una scarpata in faccia alla Padula che ha portato al secondo giallo e quindi all'espulsione. Da lì l'attacco, un attacco portato con tantissimi uomini, dobbiamo dire anche il gesto eroico di la Padula che malgrado il naso rotto è rimasto in campo, è rimasto in campo con il desiderio di poter condurre la battaglia. E quando hai degli eroi di questo tipo in mezzo al campo succede anche che diventino loro gli eroi della partita. La Padula è colui che ha pareggiato il conto in pieno recupero, quando Ranieri ha giocato anche gli ultimi assi che aveva in panchina. Sciomulo mancoso, se ne avesse avuto altri avrebbe fatto entrare anche altri attaccanti, anche Petagna è finito dentro il campo nell'assalto finale. Uscivano attaccanti, o meglio uscivano difensori ed entravano attaccanti in un continuo rinforzare la zona d'attacco. A testa bassa, senza logica, senza tattica, senza bel gioco è arrivato il pareggio di la Padula come detto e il gol di Pavoletti a fil di sirena, la trama del Cina e Panettone. Incassiamo i tre punti ma dobbiamo anche riflettere, è proprio nel momento della gioia che devi prendere atto del fatto che forse devi costruire qualcosa di più equilibrato. È vero, il coraggio non ci manca, l'azzardo neppure, la voglia di vincere neanche, alla fine però devi anche tentare di vincere giocando al calcio. Stavolta è andata così, è andata così e prendiamo i tre punti, però dobbiamo anche ragionare nel momento in cui incassiamo anche di quello che dobbiamo ancora crescere e c'è tanto da fare per poter costruire una squadra vera.